E proprio su questo concetto dell'amico che non c'è, che noi abbiamo pensato di fare questa serata, la preghiera ovviamente è un momento, la preghiera della messa è un momento. Un gatto soriano diceva a un barbone, non porto rispetto ne manco al padrone, perché all'occasione gli esgraffio la mano, ma tu che lo leghi, te becchi le ponte, te mena, te sfotte, te mette in catena, cor muso richiuso e un cerchio, cor bollo sull'osso del collo. Secondo la moda, te taglia le vinci, te spunta la coda, che belli le vinci. Io guarda, sono un gatto, sono un ladro, lo dico, ma a me non sa zarda di farmi ste cose. E al cane rispose, ma io gli esor amico. Grazie. 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 Il vostro figlio, vostro figlio, Il vostro figlio, vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio. Il vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio. Il vostro figlio, vostro figlio. Il 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 vostro figlio.